Pescara via Lago di Borgiano, cittadini esausti, spaccio, delinquenza e disturbo della quiete pubblica. E Domenico Pettinari a raccogliere il grido di aiuto di alcuni residenti in via Lago di Borgiano, appunto nel quartiere Rancitelli di Pescara. Cittadini lamentano la presenza di occupanti abusivi o assegnatari senza diritto che continuano a utilizzare le case ATER di proprietà della regione Abruzzo per lo spaccio di droga e altre attività illecite. A queste gravi situazioni si aggiungono fastidi di ordine pubblico come la musica ad alto volume e gli schiamazzi a ogni ora del giorno e della notte che rendono la vivibilità del quartiere bassissima. Via Lago di Borgiano, Pettinari, terra di nessuno, i cittadini sono esasperati. Cosa sta accadendo? La grande farsa dell'abbattimento del ferro di cavallo a 300 metri, si stanno sgomberando delle case e sono venuti tutti qui. Ci sono occupazioni abusive di persone che si spostano da lì, vengono in Via Lago di Borgiano, Via Lago di Capestrano dove la situazione è veramente infernale. Spaccio di droga a tutte le ore, dalla mattina alla sera i cittadini qui sono esausti, non ce la fanno più. Occupazioni abusive, persone che detengono le attività, gli alloggi popolari per fare attività illecite, che non rispettano i requisiti della legge regionale 96. 96 devono essere cacciati di casa e stanno ancora qui, non si capisce perché. Poi la grande farsa per cui io sono arrabbiatissimo oggi, sono venuto qui veramente sul piede di guerra, che è che mentre io con altri cittadini ci battiamo per cacciare i delinquenti dalle case popolari, è arrivato un emendamento in regione che parla di sanatoria per gli occupanti senza titolo. Cioè significa che colui che non ha titolo potrà usufruire della sanatoria che si sta facendo in regione Abruzzo. Quindi coloro che dicono che faccio propaganda si devono vergognare, devono venire qui accanto a noi, accanto a me a combattere contro i delinquenti e contro i criminali. Questi due palazzoni che sono vergognosi, questi due palazzoni erano da battere 3, 4, 5 anni fa, stanno per crollare, per cadere e non vengono abbattuti. Quindi è uno scempio in mondizia diffusa dappertutto, la possiamo riprendere, bivacchi e persone pericolosissime che alloggiano in questi posti. Quindi di fatto insomma le attività illecite si sono spostate di 200 metri? Certo, si stanno spostando di 200 metri in Via Lago di Capistrano e Via Lago di Borgiano. Ecco la grande farsa dell'abbattimento del ferro di cavallo dove si stanno spendendo milioni e milioni e milioni di euro di soldi pubblici per fare propaganda, perché qualcuno ha bisogno di fare propaganda. Quella è la propaganda, non questa.